Ciao a tutti e bentornati al mio canale Agnese Mad. Ma di chi saranno queste belle scarpine tutte ordinate in una scarpiera? Non sono di certo le mie. Siamo invece a casa di Barbie. Hanno infilato le loro belle scarpine e sono pronte per andare a fare una passeggiata. Questo video è per chi è un po' stanco delle solite scarpine di plastica e per chi vuole qualcosa di un po' diverso per le proprie bambole. In questo video vi faccio vedere come vado a realizzare queste scarpine stile ballerina fatte di stoffa, carta, cartoncino e argilla polimerica. Per iniziare dovremo quindi scegliere una bella stoffa colorata che andremo subito ad incollare su un foglio bianco o nero a seconda del colore della stoffa con colla di lilica stesa in uno strato sottile. Mentre asciuga andiamo a disegnare la sagoma del piedino della bambola ricordando che le Barbie hanno piedi più o meno grandi a seconda del modello. Come potete vedere infatti questa scarpina grigia è perfetta per questo piedino mentre questa nera è per una Barbie dal piede un po' più grande. Segnando lo stampo teniamoci larghe qualche millimetro tenendo la matita in posizione perpendicolare al foglio e andiamo pure a ritagliare le suolette. Questi saranno i nostri stampini che useremo ovviamente specularmente qui ce n'è uno più grande e uno più piccolo. Su un altro foglio appoggiamo lo stampino desiderato e tracciamo la curva della punta andando poi ad allungare le linee in una U rovesciata. A circa 8 mm dalla punta rotondata e a 5 mm ai lati tracciamo una seconda linea a U. Quando arrivo verso il fondo mi tengo un po' più larga arrivando a 5-6 mm perché lì sarà la parte che andrà a chiudere sul tallone. Troviamo la linea di simmetria piegando il foglio in questo modo in lunghezza e andiamo a ritagliare lo stampo tenendo il foglio chiuso a metà. Sarà questo lo stampo che andremo a ripetere due volte sulla carta incollata alla stoffa. Finito questo riporto lo stampo delle suolette su un cartoncino incollato a uno beige perché la suola interna la preferisco in un altro colore. Riporto lo stampo per il piede destro rigiro lo stampo e lo riporto per il piede sinistro e vado a ritagliare. Per un altro paio di scarpine ho incollato invece le suolette su carta nera. Riprendiamo quindi lo stampo a U riportato su carta e stoffa e aggiungiamo una curva ancora più ampia che ci servirà una volta tagliata a triangolini per ripiegare e incollare la stoffa sotto la suola. E ritagliamo così come vedete. Una volta fatto con le dita andiamo a piegare i triangolini verso l'interno per facilitare il lavoro di incollaggio. Prendiamo le nostre suolette e con l'aiuto di uno stuzzicadenti poniamo uno strato sottile di colla vinilica sui bordi e sotto la suola iniziando dalla punta e non dal tallone. Mettiamo un po' di colla anche sui triangolini curviamo con le dita la punta dello stampo a U e appoggiamolo alla punta della suoletta. Cominciamo a ripiegare i triangolini sulla parte sottostante della suola continuando dalla punta verso i lati aiutandoci con uno stuzzicadenti. Sarà sicuramente questa la parte più lunga e difficoltosa del lavoro ma dovremo continuare a ripiegare e tenere schiacciati i triangolini sul sotto della suoletta finché avranno fatto un po' di presa. Potremo lasciare asciugare bene punta e lati e dedicarci all'altra scarpina prima di chiudere e ripiegare sul tallone. Come dicevo questa parte di lavoro sarà lunga e richiederà un po' di pazienza. Facciamo tanta attenzione a non toccare e sporcare con la colla la parte superiore della scarpa in stoffa. Una volta asciugato sulla punta ai lati possiamo continuare a ripiegare fino al tallone e possiamo eliminare tagliandolo l'eccesso sul retro. Calcolerò che solo un paio di millimetri di stoffa vadano a sovrapporsi sul tallone e unisco sempre con la colla vinilica. manteniamo per qualche minuto la stoffa in posizione e possiamo approfittare per passare un velo di colla sul bordino sulla scollatura della scarpa in modo che la stoffa non sfrangi. Finiamo allo stesso modo l'altra scarpina. Pieghiamo in un invito all'altezza del tallone tagliamo l'eccesso meglio poco la volta attenzione e incolliamo le parti rimanenti. anche su questa un leggero strato di colla che elimino subito con le dita sul décolleté e finiamo incollando i triangolini di stoffa da ripiegare sotto al tallone. Una volta che le scarpe sono completamente asciutte e indurite andiamo a terminare l'opera con dell'argilla polimerica con la macchina standipasta regolata al massimo dello spessore creo una sfoglia alta circa 3 mm sopra a questa appoggio la scarpina e premo leggermente e con un cutter ritaglio la suoletta seguendo il contorno della scarpina con le dita faccio aderire bene la suola in pasta alla scarpa smussando verso l'alto i bordi in modo che il taglio eseguito con il cutter sia più morbido e vada ad aderire bene alla stoffa per finire un bastoncino schiacciato a mano o una listerella tagliata da una sfoglia di pasta più sottile ci aiuterà a bordare e rifinire la nostra scarpina contorniamo e bordiamo e schiacciamo picchiettando leggermente con le dita fatto questo le scarpine possono essere cucinate nel forno a 110 gradi per 15 minuti perché la pasta sintetica indurisca ed eccole qui pronte e finite e a tutti voi auguro buon lavoro e buon divertimento ciao ciao a tutti da Agnese grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti